Le difficoltà delle persone con disabilità nel mondo del lavoro e la valorizzazione del talento femminile in ambito imprenditoriale e questo il tema trattato in un cortometraggio presentato al Chiostro di San Domenico a Piedimonte Matese voluto da FZ System Importante Realtà Industriale di Sant'Ancelo da Rife nel Casertano che ha come protagonista Maria Grazia Cucinotta che abbiamo incontrato a margine dell'evento. Allora che cosa ci fa Maria Grazia Cucinotta a Piedimonte stasera. Questa sera c'è la presentazione di questo corto sociale che ha un tema sociale molto interessante perché parla del lavoro femminile e soprattutto della crescita di una donna in un'attività professionale. Lei crede ancora in questi forti disagi che ci sono nell'inserimento? Purtroppo vedo che tanta gente li subisce non personalmente perché logicamente faccio un lavoro molto indipendente però ci sono ancora delle grandi diseguaglianze tra il lavoro femminile e il lavoro maschile. Senta che cosa si può fare secondo lei? Continuare a lavorare, continuare a lavorare per cambiare la mentalità purtroppo perché la mentalità sta nelle elementi, le diversità. Non c'è diversità, secondo me un talento non ha sesso. La creatività e il saper fare non ha sesso. Se una persona vale deve prevalere la meritocrazia e non il genere. Prossimi impegni suoi? Prossimi impegni miei? Intanto continuo la mia trasmissione sull'assetto dell'ingrediente perfetto e poi inizierò a breve un film su Mameli. Qual è in ossetto l'obiettivo della serata di stasera? Come nasce il progetto? Allora io penso che ognuno di noi oltre che occuparsi del proprio lavoro deve guardare anche ciò che è intorno. La mia azienda nella persona mia e di mia moglie, diciamo dal punto di vista del sociale comunque è molto attente, molto sensibile e con questo cortometraggio noi diamo un segnale più forte in quanto lancia un messaggio di un'inclusione lavorativa. Quindi chiaramente tutto ciò è stato reso possibile anche grazie alla presenza di Maria Grazia Cucinotta. Dal Chiostro Dominicano di Piedimonte Matese è tutto. Lorenzo Applauso per casertasera.it